bene amici periodo di confronto e si top di gamma sono usciti praticamente tutti contemporaneamente quelli del 2016 ovviamente parliamo di G5 e di P9 due telefoni che si caratterizzano guardate per quattro fotocamere posteriori ma lo avete scoperto nelle recensioni le vengono utilizzate in maniera completamente diversa una grande angolare una normale sul G5 una in bianco e nero e una colore sul P9 per fare scatti artistici diciamo così o per migliorare anche gli scatti a colori qua c'è ancora una diatribe in corso c'è chi dice che sia solo marketing c'è chi dice effettivamente lavorano insieme bah noi andiamo a vedere al sodo ea come lavorano le fotocamere soprattutto come vengono gli scatti chi se ne frega poi dietro come come lavorano gli algoritmi allora parliamo di materiali touch and feel dimensioni prima di tutto entrambi hanno sensori digitali posto dietro però pulsante accensione spegnimento laterale per il per il P9 che però si sblocca velocemente col pulsante dietro mentre abbiamo il pulsante completamente dietro che fa anche da accensione spegnimento basta però sfiorarlo per sbloccarlo e accenderlo mentre i pulsanti volume laterali per il G5 per quanto riguarda il design qua scelta personale ma io preferisco il P9 mi sembra più curata la parte posteriore con due fotocamere meno curata quella del G5 i materiali allora entrambi sono in metallo unibody con la parte posteriore satinata e la parte anteriore completamente in vetro con un vetro leggermente bombato agli angoli per il P9 mentre abbiamo una bombatura da questa parte che non mi fa impazzire l'ho detto in tutte le recensioni ovviamente lo ridico anche in questo confronto per il G5 è un materiale che si buono ma sembra meno premium rispetto agli altri però qua abbiamo quella che può essere generata o meno vedremo come sarà supportata da da LG dei moduli intercambiabili e della batteria che può essere modificata insomma 4 a 3 per il P9 li sblocco con l'impronta digitale li metto sul tavolo ed entro nella galleria per parlarvi di display due tecnologie simili sono due LCD ma abbiamo una qualità diversa abbiamo un QHD da una parte più una qualità una risoluzione diversa e abbiamo un full HD per quanto riguarda invece il P9 ho messo l'uminosità automatica e selettore diciamo rapido al massimo su tutti e due i telefoni vi faccio vedere le immagini test scorro velocemente per andare a quello che ci interessa la palette dei colori che come vedete si vede bene su entrambi i telefoni l'angolo di visuale è pressoché lo stesso forse leggermente migliore per il P9 soprattutto su questo su questo asse rispetto rispetto a quest'altro asse ma quello che non mi fa impazzire di P9 è il nero che se lo metto di taglio è leggermente grigino non è un nero intenso quello del G5 è più intenso quello che invece non mi piace del G5 è il fatto che la polarizzazione verticale ve lo faccio vedere anche qua l'ho fatto anche vedere un'altra recensione ma non tutti le guardano tutte vedete con degli occhiali polarizzati praticamente non si vede più niente perché proprio c'è un secondo me un abbaglio ingegneristico ovvio che se non avete occhiali polarizzati o avete gli occhiali polarizzati circolarmente non avrete questo problema e quindi qua non avrete problemi e quindi da questo punto di vista due a due perché uno è un po' grigino l'altro ha la polarizzazione sbagliata ora li giro per parlare di autonomia abbiamo 3000 mAh di qua 2800 di qua col P9 se arriva a sera non si fa tantissimo ma comunque a sera ci si arriva col G5 si affatica io sono arrivato tra la merenda e l'aperitivo però qua abbiamo la possibilità di cambiare la batteria cosa che non si può fare con il con il P9 2 a 1 li riappoggio sul tavolo per parlare di software di ecosistema di usabilità apriamo prima di tutto il gestore delle pagine per vedere quale arriva prima quale si comporta meglio è arrivato prima il G4 vi faccio vedere anche come scorre che diciamo a 360 gradi gira leggermente più fluido del P9 il P9 volte ha qualche diciamo ingarbugliamento nulla di trascendentale nulla di drammatico ma ci mette sempre un pochino di più a fare a fare le operazioni vi faccio vedere anche il multitasking che io preferisco sul sul G4 G4 che ha 4 GB di RAM mentre il P9 ha solamente 3 GB di RAM entrambi hanno 32 GB di memoria integrata la 464 del P9 non verrà in portata in Italia arriverà il plus verso verso maggio però devo dire che è un tre pari perché per esempio del P9 mi piacciono tanto le notifiche cronologiche entrambi i telefoni non hanno il drawer insomma da questo punto di vista pareggio anche per quanto riguarda la parte telefonica vi faccio vedere subito il dialer direi che è un pareggio 3 a 3 per tutto perché sono due telefoni che si sentono veramente molto bene sia dalla capsule auricolare sia in via voce hanno un dialer veloce entrambi anche ricercare velocemente il numero in rubrica insomma pareggio 3 a 3 e veniamo al comparto dove le fotocamere devono dirla loro quindi al comparto fotografia allora clicchiamo sulle due icone vediamo subito la differenza di interfaccia swipe verso l'alto per entrare nelle varie modalità mutuate da da leica a lenti a lenti laica proprio il il P9 e anche l'interfaccia è mutuata vedete tutte le varie possibilità non sto a dilungarmi troppo ci sono le recensioni di questi due telefoni dove ho fatto più approfondimenti puoi fare un approfondimento tra tutti i top di gamma possibilità di quali tutte le altre opzioni quali interfacce invece di lg con la possibilità di utilizzare la fotocamera normale oppure quella grandangolare anche qua alcune modalità simpatiche e la possibilità anche qua di scattare in manuale c'è anche sul P9 ovviamente la possibilità del pro vediamo la velocità di messa a fuoco mettiamo la camera non non grandangolare siamo su buzz andiamo lontani torniamo vicini devo dire che è abbastanza è abbastanza veloce non fulmine ma abbastanza veloce mentre per quanto riguarda il P9 che mi sembra zoomato sì probabilmente avevo fatto qualcosa prima andiamo a vedere vedete un pochino più lento nella messa a fuoco anzi decisamente più lento magari se devo quantificare un tempo di messa a fuoco direi il doppio sul sul P9 rispetto al G5 ma andiamo a vedere gli scatti entriamo nella nella galleria dobbiamo ovviamente uscire dalla cartella di test dove ero messo prima entriamo da tutte e due le parti nella cartella della fotocamera ed è messa qua ok dovrei esserci vi metto i telefoni orizzontali e andiamo a analizzare gli scatti prima di tutto ho fatto uno scatto con il G5 in più perché c'è lo scatto lo scatto panoramico un po più velata la la fotografia del G5 scattata al medesimo istante di quella fatta col col P9 le medesime condizioni di luce probabilmente le lenti sono di una qualità inferiore perché avevo il sole di taglio e forse questo ha disturbato un pochino la lente per quanto riguarda le foto a questa sorta di bancarella quindi i colori a me piacciono entrambe leggermente meglio quella del P9 per quanto riguarda i selfie forse leggermente meglio quella del G5 per quanto riguarda la macro comunque ci siamo foto notturne forse leggermente meglio il P9 ma sono veramente dei dettagli a me le foto piacciono piacciono le foto di entrambi questi questi telefoni e sinceramente ritengo più non più intelligente ma più utilizzabile quotidianamente la doppia fotocamera con il grand'angolo rispetto alla doppia fotocamera con il bianco e nero Elliot Irwitt ha fatto scuola con il bianco e nero se volete fare le foto che fa lui o comunque divertirvi col bianco e nero artistico il P9 è assolutamente il telefono che fa per voi nell'uso quotidiano secondo me il grand'angolo ha più senso ma quelli sono giudizi personali quindi 3 a 3 per quanto riguarda le foto mentre per quanto riguarda i video direi che vince il G5 per 3 a 2 sono più belli più definiti e più stabilizzati i video dell'LG andiamo a cercare Bublé per parlare dell'audio prima di tutto vedete sul G5 c'è anche la radio FM che non c'è sul P9 partiamo con il P9 ovviamente con Moondance di Bublé alziamo il volume al massimo un volume veramente alto importante mancano un po' le note basse e l'altoparlante comunque posto sotto come anche sul G5 che vi faccio sentire non ok ho alzato al massimo lo faccio sentire subito allora a volume direi che siamo lì però la qualità del G5 è leggermente migliore ha tonalità un pochino più bassa e la radio FM vince 3 a 2 ah e poi c'è anche i moduli volendo per espandere questa qualità dell'audio parliamo adesso di gaming clicco contemporaneamente su Real Racing vi dico che girano bene su entrambi i telefoni i giochi ormai siamo arrivati a un livello tale tra il Kirin 955 e lo Snapdragon 820 che problemi di potenza non ce ne sono vediamo invece quale arriva prima per capire quale ha le memorie più veloci e direi che il P9 è arrivato leggermente prima sono differenze che nel quotidiano non sentiamo quel mezzo secondo quel secondo in più lo vediamo qua quando andiamo a fare delle delle comparative quindi direi che anche sul gaming visto che alla fine girano bene due pari browsing internet abbiamo chrome come browser per difitto da entrambe le parti andiamo su automoto.it su tutti e due telefoni chiediamo la pagina desktop probabilmente era già aperto il G5 ma la prova la facciamo a parità di diciamo di condizioni per quanto riguarda lo scrolling verso la fine della pagina vedete girano veramente alla stessa maniera fluidi insieme andiamo a vedere la velocità invece di apertura di una news la nuova Volkswagen Tiguan del nostro amico e collega Emiliano anche qua avete visto il caricamento un nanosecondo prima nel G4 praticamente direi che siamo alla pari 2 a 2 e siamo arrivati alle considerazioni sul prezzo 599 euro per il P9 100 euro in più rispetto al top di gamma dell'anno scorso il P8 mentre qua siamo addirittura a 699 euro però con un modulo aggiuntivo della cam beh direi che pareggio perché più o meno ci siamo 2 a 2 e qua viene il difficile andare a dare un giudizio alle previsioni di longevità e di tenuta del valore dell'usato nel tempo beh qua possiamo fare supposizioni sappiamo la storia del Flex 2 e del G4 quindi questo G5 è destinato a scendere di valore ma anche i Huawei che scendono effettivamente un po' meno di prezzo ma sono poi alla fine un pochino meno facilmente rivendibili nei mercatini per quanto riguarda invece il supporto LG è sempre la prima di solito a inviare la nuova release di Android anche con Marshmallow e con il G4 è stato così è arrivato praticamente poco dopo l'annuncio poi i bug fix e gli aggiornamenti successivi ci mettono un po' di più Huawei è forse ancora più lenta rispetto a LG ad aggiornare i propri telefoni insomma qua secondo me è una parità 1 a 1 non ho fatti totali bene amici siamo giunti alle conclusioni allora prendiamo il foglietto con le somme 29 per il P9 28 per il G5 sì anche io preferisco leggermente il P9 per il design per la batteria che dura di più per come si tiene in mano però le differenze sono veramente sottili quello che non mi è piaciuto del G5 è l'autonomia fondamentalmente e il design che non mi ha fatto impazzire però mi piace molto il display scusate la doppia fotocamera grandangolare la preferisco a una che fa le foto in bianco e nero mi piace l'idea dei moduli speriamo vengano implementati intelligentemente da LG insomma tra questi due preferisco leggermente il P9 però magari il G5 è quello che ha più potenzialità insomma lo scopriremo solo vivendo